La regione Lombardia sui 43 siti UNESCO riconosciuti in Italia ne rappresenta quasi un quinto perché sono 9 i siti riconosciuti, ultimamente sono stati riconosciuti nel 2011 due siti, tra i più importanti ricordiamo Santa Maria delle Grazie, col Cenacolo Vinciano e poi i Sacrimonti di Varese, quelli più significativi e importanti, poi le località di Mantua e Sabionetta e la Ferrovia Retinica rappresentano una buona parte dei siti riconosciuti.